Buongiorno, oggi è il 4 marzo 2021 e sono le ore 9, prima convocazione della prima commissione consigliare. Attestiamo la presenza dei consiglieri. Presidente Evola, Vicepresidente Mineo, Consigliere Forello, Consigliere Chinnici, Consigliere Sala, Consigliere Arrini, Consigliere Ferrandelli, considerato che tutti i consiglieri sono assenti in prima convocazione, si rinvia la seconda convocazione all'ora 10. Interrompiamo la registrazione.